che formaggio mi fa assaggiare il fatulì si chiama fatulì è un presidio siamo in quattro che fanno quel prodotto qua in italia è fatto con latte alla capra bionda fumigato le bacche di ginepro bisogna per farlo serve un protocollo disciplinare un protocollo perché è un prodotto storico che è fatto con latte alla capra bionda che è una latte di estinzione è nato per la mantecatura del risotto ma oggi lo usano a fare tutto il fatulì massaggeremo vai sul sito di slow food e clicchi il fatulì esce chi lo fa diciamo in quattro e come va consumato grazie a tutti grazie a tutti